Musica 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 Gli ultimi della gara. Gli ultimi della gara. Naturalmente zona arrivo per questo miligiro da un chilometro e 800 metri. Questo traguardo volante però potrà anche un po' diciamo rompere gli equilibri della gara perché magari chi si aggiunica poi il traguardo volante non è detto che poi possa vincere la gara perché il posto subito dopo la partenza sono i primi chilometri quindi... Gli occhi, le macchine apri pista per quella che è la testa della competizione. E' festa, è festa! E' festa San Nicola! Oltre a passare dentro il traguardo dei 1800 metri. Attenzione! Si stanno avvicinando le bici che fanno la strada a chi sta conducendo il ritmo. Ecco lì, passare il perfetto orario. Siamo vernicamente su la squadra dietro ed è Yusuf Maik insieme al Vettorale 511 e subito dietro Abdelkbir Ramashi, il suo talento che sta tagliando ora il traguardo. E i tanti dietro a concludere quelli che sono le prime cinque posizioni. Ma in cascola... Il primo italiano... Francesco Maola, seguire Giuseppe, seguire anche Lello Pozzillo, salvatore del tifo Mondragone in corsa e dietro vedo anche il suo amico di squadra Vincenzo Migliaccio. Possiamo ufficialmente dire che è Yusuf Maik ad aver vinto il traguardo volante al maschile. Vedremo chi sarà in campo femminile. Martina, credo che la gara sarà vinta dal compagno di nazionalità, la Criti. Quindi era attaccato a Itch, evidentemente farà da studio per questo primo chilometro. C'è Francesco Barriale insieme a Roberto Suppa. Gli ragazzi di casa, è Luciano, la San Nicola che ha deciso di correre e di divertirsi insieme alla propria città. Ma i tanti team che sono accorsi da ogni parte del campano. E buttiamo l'occhio perché c'è anche il passaggio della prima donna. Sì, è Barbara Travaglio. Ed è lei ad aggiudicarsi subito dopo in seconda posizione. C'è Paola Di Tilo del gruppo Virtus. Benvenuta Paola. Allora, come abbiamo visto, tanti, tanti, tanti. Luciano oggi aveva con sese e l'ha portato giocando in casa. Mi metto sempre davanti alla macchina fotografica. A me ragazzi, forza. Cerco sempre di spostarmi. Allora, c'è anche il presidente Angelo Garofalo. Tanti colori, mandaloni, marcianise, i ragazzi della Felix Running. Sono veramente, veramente tanti. Poi passa da una persona da me sconosciuta, un certo Vincenzo Santillo. È la stabile, Anna Trinchillo. È la stabile d'Anna Trinchillo a completare quello che è il quintetto delle donne. Quando siamo su 4,15 a chilometro, Anna Maria. Anna Maria di Brasio, gli altri ragazzi di Cali di Risorte. E poi, eccoli qua. I palloncini. Oh, ma c'è anche tu Giulio. 4,15 a chilometro, perfettamente in orario. Giulio Auretta. Ormai tutti si sono fatti conteggiare. Roberto. Giulio e Giuseppe insieme. E poi Mimmo, in fondo, il palloncino del 4,30. Coloro che vi porteranno ai 45 minuti esatti. Vai Mimmo, vai Giuseppe. Facciamo un applauso a tutti questi attrezzi. Vai Anna Maria. Vai Antonio. Antonio e Annotta. E qui possiamo ammirare il bello di questa gara. I colori delle varie canotte a inondare le strade di San Nicola la strada. Questo fiume colorato che porta gli atleti verso questo primo giro. E devo dire che è emozionante ancora una volta per me vedere questa strettoia. Perché mi ricordo sempre la partenza. E ancora i fanfaser. Forza ragazzi. Carmela, Lorenzo e Carmela Iazzetta a segnare il 5 km. Forza ragazzi. Mi raccomando, prendete davvero durante il percorso perché l'umidità sta salendo ma il sole fortunatamente si sta abbassando. C'è pure un po' di venticello che secondo me fa bene. Mimmo, marza gli ogni. E continuano ancora i colori della Trenino Marciarise. Oggi vedo tante squadre numerose che si devono giocare il premio. E' un ricco premio ovviamente di società. E ripetiamo che le premiazioni saranno fatte nella villa comunale in uno scenare bellissimo. Grande Luigi, benvenuto. A quanti siete ragazzi? Forza, siamo sopra i 5 km. Ora è il momento di cominciare a puntualizzare quella che è la vostra gara. Forza, facciamo tutti i campi. C'è anche la mamma Raffaella. Andrea, vai Andrea. Dopo le fatiche di casa giove di due giorni fa. Cicciano running con Maurizio. Le ragazzi, forza. Ma quanti siete... Io voglio ringraziare, perché è passata adesso, bravo Fabio, i ragazzi di Saliano, che hanno distribuito, ma tantissimi, due 300, se non sbaglio, occhiari. Questi qua che porto, che ogni volta dove vado mi li chiedono. Grazie ovviamente a Ciccio Ferrara. Enzo, è lei Enzo, i ragazzi delle stufe di Marone, direttamente da Soccavo. Se passano, conciugui. Mi fa non divertere la testa, per favore. Ecco lui, ci vediamo, tutti e tre, 12. Ma è il primo, c'è il passato. Sì, è lui, è lui, è lui, il primo, è lui, il primo Enrichello. E' dietro, e' dietro, forza. Vai assunta. Dopo giovedì, vi siamo oggi, giovedì ad Avellino, oggi a San Nicola la strada. Alemanì, a forza, ci siamo, 1800 metri appena conquistati, ma abbiamo naturalmente ancora tutta la gara da vivere, vedremo chi sarà il vincitore di questa diciottesima edizione. Ma guarda che accogliente, questi sono degli amici, cioè sono degli amici che bevono, ma è fatto con la birra a quest'ora. Io non ti conosco. Caterina! Ho anche le dediche. Caterina! Forza ragazze! Rosa! Dai, dai! Ve l'ho presa però, Rosa, Margherita, Edemilia. Vai Francesca! Zio Salvatore, qua in mezzo al pubblico, sempre un grande, Salvatore Bardellino. E poi c'è lui! Forza di forza! O all'ora della Reggio Aranni! Il nostro di forza, 1800 metri ora, 12 minuti e 40 appena trascorsi. Martina è un record per il Presidente Rivetti, passare un chilometro volta a 12 e 40. E' previsto il premio per chi passa ai 1.800 prima dell'ambulanza, quindi direi che c'è un premio. Un Presidente che non corre non l'abbiamo mai visto, che è successo Pietro? Quest'anno ho fatto una scelta diversa, ho cercato di far correre i miei amici e alcuni della squadra, rimanendo comunque dietro le quinte per far divertire loro. Tornare dopo tre anni, che meraviglia, che impressione, che cosa stai provando? Ho ancora dei brividi sulla pelle, perché il mio sogno era quello di riportare la gara al centro del paese e poi in un sabato sera, in modo tale da far partecipare non soltanto gli atleti, ma tutte quante le famiglie, in modo da portare comunque persone a San Nicola per far vivere il territorio, per far conoscere il territorio sia alle persone della regione, di tutta la regione Campania, sia a persone che vengono da fuori regione. Cosa significa ripartire dal centro storico della città dopo tanti spostamenti nel passato? Sembra che un mese sia stabilizzata qui l'arrivo e la partenza della Maratona. Tu sei fra i fautori di questa idea. Sì, allora prima di tutto questo ci riporta indietro di qualche anno, che fa sempre bene. Poi voglio ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco in particolare, la protezione civile, il comandante dei Vigili Urbani che ci ha dato comunque la possibilità di far ritornare questa manifestazione qui in piazza e quindi di bloccare l'intera città per qualche oretta, però per il bene del paese. Grazie Pietro, ci vediamo nel post grana. Assolutamente sì, un ringraziamento particolare anche a te Nicola, perché tu comunque ci sei stato vicino dal 2002, da quando siamo nati, non ci hai mai lasciato, non solo, non solo, e tengo a precisarlo, quando nel periodo degli eventi, quindi nel periodo di giugno della Maratonina, ma comunque ci segui continuamente in tutto l'arco dell'anno. Questa è una cosa straordinaria a cui noi teniamo tanto. È il mio cuore che parlo, non sono io. Grazie mille ancora. Grazie, grazie. In bocca al lupo. Però anche perché cuore, cuore per cuore, senza i Pietro Maienza, senza i precedenti, i presidenti, qua sarebbe stata una corsetta a quattro, invece è diventato il più grande avvenimento sportivo di San Nicola da Strada. Grazie a voi e grazie a te. Grazie a te, grazie anche a voi. Il comandante Negro, la polizia locale, due punti fermi dell'organizzazione, è inutile parlare di Maratonina senza i responsabili che responsabilmente organizzano come voi. Comandate? Sì, sicuramente è la responsabilità, insomma, del comitato che ha organizzato, di chi poi deve preoccuparsi della chiusura delle strade, di sicurezza e quant'altro. Quindi un grosso applauso lo faccio, ma non perché è presente all'amico Ciro, ma anche alle altre associazioni che si stanno dando una mano, non indifferenti come l'associazione carabinieri di Andrea Corazza e l'altra associazione che si è da poco si è insediata, dell'amico Franco. Io un grazie lo voglio con tutto il cuore dare alla cittadinanza che comunque ha risposto. E grazie anche a te, amico Nicola Ceramella, che hai fatto un down-down continuo già da qualche giorno. Quindi voglio dire, ecco, quando io voglio a qualcuno risposto che queste iniziative vanno nella direzione di far innalzare la cultura, è così. Quindi ben vengono queste iniziative e complimenti a tutti e in bocca al lupo per la prossima edizione. Grazie comandante. Ciro De Maio, dove te ne scappi? Signori, Ciro De Maio, eh? Sì, sì, non è niente. Dalla prima edizione fino all'ultima per altre 150 edizioni. Certo, sono contento, sono contento perché ogni volta che c'è un lavoro di squadra. Lui ha fatto i complimenti, eccolo qua, in diretta, eccoli qua. Avanti, difendere, comunica. Caso che ci mettiamo a fine corsa, non dietro l'ambulanza, così ti possiamo dare volta per volta dove sta in fine corsa. Affermativo ragazzi, bravi, bravi tutti. E voglio dire, veramente bravi anche alla Polizia Municipale che veramente stanno facendo, sono 9 ma sembrano i 90. Quindi un lavoro di squadra, il grazie di cuore ai cittadini che hanno accettato il tuo invito. Ieri ero sotto la tua abitazione, ancora una volta invitare a non prendere l'autovettura. Quindi veramente un grazie a tutti, sono contento, è un momento di gioia, di felicità a tutte queste persone in un momento così triste. Due parole, la prima di 18 anni fa e l'ultima quella di ora, cosa è cambiato? Niente, abbiamo un'esperienza ancora più massiccia perché abbiamo passato il Covid, stiamo vivendo ancora questa guerra. Ieri insieme al comandante siamo stati a Napoli ancora ad accogliere ucraini che stiamo cercando di collocare sul nostro territorio. Quindi niente, con un po' di amarezza oggi. Aspetta 18 anni fa, c'è qualche sentimento forte? Niente, siamo giovani, siamo giovani e saremo sempre qua per altri 10 anni. Siamo più giovani. Grazie, grazie a voi. Questa bellissima gara segna veramente l'avvio e la ripartenza delle tante manifestazioni che a San Nicola fino a due anni fa si svolgevano. Devo dirlo, grazie all'amministrazione comunale ma soprattutto grazie alla rete di associazioni sportive, culturali, ricreative della nostra città. Stasera il merito va detto subito in apertura, va dato tutto all'Atletica San Nicola. Perché non soltanto è una serata all'insegna dello sport ma si sono letteralmente i singoli atleti rimboccati le maniche, hanno curato ogni dettaglio, ogni aspetto organizzativo e lo hanno fatto in collaborazione con l'amministrazione comunale. In particolare col comando di Polizia Municipale e con gli straordinari volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile. Nicola, la vostra presenza qui, cioè della stampa locale, tutte le persone che ho citato, tutte insieme, e la scelta di farlo di sera e con l'arrivo e la partenza nella piazza centrale della nostra città, il luogo storico, il luogo più simbolico come tu giustamente ricordavi, segna non soltanto la ripartenza ma uno sforzo corale di tutta quanta la città. Volto ad accogliere i tanti atleti, oltre 500 provenienti da tutta la provincia, da tutta la regione e sperando che vadano via di qui con un bel ricordo della nostra città. Un ricordo non soltanto sugli aspetti organizzativi ma di aver ricevuto un'accoglienza simpatica, allegra da parte anche dei cittadini che non hanno partecipato all'organizzazione ma che stanno anche loro, tra virgolette, supportando questa iniziativa con un piccolo sacrificio che ogni tanto vale la pena fare quando c'è una bella manifestazione come questa. Facciamo bene a definire che il più grande avvenimento sportivo locale è tra i più attesi della provincia o siamo troppo presso un turismo? No, no, io credo che lo possiamo dire. Questa maratona va avanti da 18 anni. Per andare avanti da 18 anni significa, Nicola, che è un evento oramai collaudato e ben organizzato. Altrimenti le manifestazioni durano poco, non si ripetono fino alla diciottesima edizione. Quindi penso che possiamo dire che è tanto attesa dagli atleti di tutta quanta la provincia e a San Nicola resta una delle manifestazioni principali. Questi ragazzi veramente ogni anno apportano una piccola novità, anche la premiazione che faremo in serata nel luogo dell'arena che anche l'arena quest'anno è stata ripresa proprio per segnare una ripartenza, da merito, da atto a loro pure di aver valorizzato uno dei luoghi storici principali della nostra città. Grazie sindaco, alla diciannovesima allora. A voi sempre grazie e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao, 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 grazie. Il nome del vincitore, il nuovo re di questa diciottesima maratonina di San Nicola. Alliei ragazzi, se ci sentite, ormai ci siamo, vedremo chi sarà il nome che anteciperà lo striscione. E sotto le note di blanco, accadenti nel blu, dipinto nel blu sotto la pioggia, il vincitore di questa diciottesima maratonina, chi sarà? Attenzione alle auto, le auto che anticipano l'ombra, l'orma del re indiscusso. C'è un po' di movimento, attenzione, ancora un'altra moto e poi dovrebbe comparire la figura del nuovo vincitore. Sono appaiati ancora a Itch e la Cris. C'è lotta, c'è lotta Jenny, c'è lotta allora, bene. C'è lotta, c'è lotta. Una grande battaglia, le battaglie che piacciono a noi, gli arrivi che piacciono a noi. Prepariamoci, accogliamoli, perché c'è un vero, una vera battaglia, un vero sforzo. Ed è la Criti, la Criti che sta anticipando, Youssef Aik. Eccolo qui, il vincitore, la Criti. 23, 17, 13, 17, 17, 17, 17. Seguito da Youssef Aik e Abdelk Mirlamashi. Incredibile, che battaglia. Bene, che bene, nonostante, bravo, complimenti. Ancora arrivi. A seguire lui, il primo. Ancora arrivi. Tampano, tra l'altro di San Nicola, se non mi sbaglio, Francesco Feola, il quarto di oggi, per tonare numero tre. Il tipo da casa, ovviamente, è l'atleta di casa. Mamma che tipo, e questa è la canzone giusta Pietro. Bravo, perfetta. La canzone che ci fa compagnia. Attenzione, giusto, Giuseppe Lippo al fondo al canale. Bene, benvenuto Giuseppe. Vai Giuseppe. E lui è Mohamed. Giuseppe Lippo al fondo. Giuseppe. Vi puoi vedere anche Mohamed. E Giuseppe. Attenzione ragazzi, perché le prime quattro posizioni, le prime cinque posizioni. La Pana, la Pana e Toros. New Atletica Fremora. Una gran battaglia. Vincenzo Ceale. Vincenzo, forza. Sono gli ultimi 40 metri. Rimaniamo sotto i 37 minuti. Forza. Ultima, c'è l'azione. E ce la fa 36. Camminando anche sotto i 4 km. Nostra Stina ha avuto la forza di accelerare. Eccola qui, forza che su VDRM FUTURE. Alza le braccia al cielo. Prima in 1800. E prima. Brava. Ed è qui della Felix Rangliger. Brava. Affiancare la ragazza di con il squadra. E anche la ragazza di 4 km. con Antonio e Leonardo. Sono andati tutti. Perfetto, grazie. 18 edizioni. Non si arriva mai per caso a 18 edizioni. E soprattutto la bellezza di vedere San Nicola così colorata, dai colori del polismo che per due anni ci ha mancato. Ed ora torna ad essere animato dalla passione di chi ama correre ma dalla passione di chi fa sport. Il nostro grazie innanzitutto per averci ospitato. Sì, buonasera a tutti. E grazie naturalmente a tutti quanti voi. Voi mi consentirete stasera di partire da due cose importanti. La prima è che questa gara, quest'anno è intitolata a Lino Santa Maria. alla memoria di Lino Santa Maria. Lino Santa Maria è stato uno sportivo sannicolese ricordato da tutti noi. E la sua famiglia. E qui ci sono le figlie, c'è il fratello, c'è il nipote che invito a venire qui, così vicino a noi perché stanno aspettando questo momento delicato. C'è ora anche Giovanni. La memoria di Lino è stato uno sportivo sannicolese. Loro hanno voluto contribuire in maniera fattiva alla organizzazione di questa gara e noi siamo contenti perché il ricordo di Lino è un insegnamento soprattutto per tutti quanti i giovani sannicolesi e per tutti gli atleti. L'altro ringraziamento, come giusto che sia, va all'Atletica San Nicola. Tutto quello che avete visto, tutta l'organizzazione è merito degli atleti sannicolesi che in questa volta si hanno contribuito da un punto di vista organizzativo e non nella qualità di atleti. Sono stati straordinari. Ogni anno, con la ripresa questa volta dopo una pausa purtroppo legata alla pandemia, si sono superati perché hanno curato ogni tipo di dettaglio. L'hanno fatto naturalmente grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale, c'è il Comandante Alberto Negro con i suoi collaboratori, c'è la Protezione Civile con Ciro De Maio, la Croce Rossa e tutti quanti i volontari. Il merito, per onestà e con una correttezza che non ci deve mai mancare, è merito di tutti quanti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima manifestazione. Speriamo di essere stati capaci di aver accolto le delegazioni provenienti dalle varie città e ci auguriamo che l'anno prossimo questa gara possa andare alla diciannevesima edizione con un'organizzazione ancora migliore e con un sistema di accoglienza ancora migliore. Grazie davvero a tutti quanti voi. Grazie Sindaco, il pettorale numero uno idealmente di questa diciottesima maratonina. Ringrazio naturalmente anche la famiglia perché abbiamo una bellissima targa a Vincenzo, simbolicamente ritira a Vincenzo e poi naturalmente il nostro ringraziamento ad ogni singolo componente della famiglia Santa Maria. Grazie. Un applauso, signori. Fabrizio, ci dicevamo che quando ci siamo conosciuti mi dicevi Anna voglio fare il passatore perché se ci riesce Anna a farlo ci riescono tutti. Quanti agli elementi ci siamo incontrati e tra queste persone della squadra dell'Atletica San Nicola c'era anche tuo cugino che si stava allenando per realizzare questo sogno perché il passatore lo dico è un sogno è un viaggio lungo 100 km che solo chi lo fa può capire le emozioni che ti dà. Tu poi alla fine nonostante tutto l'hai portato a termine. Lui la doveva fare poi purtroppo all'improvviso qualcuno ha deciso che questa 100 km invece di farla qua la doveva fare con lui da un'altra parte. E questa persona è il tuo cugino Fabio oggi abbiamo dedicato a Fabio Napolitano il km al ottavo mamma mia sto proprio emozionata al traguardo volante il maschio è femminile al maschio e alla femmina e ovviamente la tua squadra ha deciso di fare questa targa a lui la ritiri tu per tutta la sua famiglia quindi la città di San Nicola dà all'atleta Fabio Napolitano sempre presente tra noi. E con grande emozione vado a premiare un amico un compagno di squadra il nostro segretario del team Caivano Runners Mimmo Nettore questa targa va a Mimmo perché la società organizzatrice ha voluto coniare questa targa perché è stato il primo ad iscriversi proprio il primo a dare fiducia all'atletica San Nicola e con Mimmo domani saremo avversari a Benafro siamo della stessa categoria quindi lo sai ci tenevo a venire e ti ho detto lo sai volevo farti complimenti a te a tutto il team e complimenti in particolare ai cittadini di San Nicola perché ho visto molto partecipi per strada e questa è stata una cosa bellissima terzo gradino del podio con i colori della Napoli Run lei è Ela Stabile seconda a Sarno domenica scorsa con i colori del GS Virtus 41 e 05 in suo time lei è Paola Di Tillo la regina indiscussa di questa diciottesima edizione è già pronta è stata prima il passaggio ai 1800 metri quindi anche il traguardo volante e prima taglia per prima il traguardo Felix Running Team Barbara Travaglio grazie a tutti grazie ai ragazzi di tutto il gruppo lo staff della protezione civile della Croce Rossa al dottor Franco Pasile che è stato il medico di cara quindi fortunatamente non c'è stato bisogno quindi però diciamo che il lavoro organizzativo e di supporto per gli atleti è sempre grande quindi grazie davvero una grande una grande sinergia un grande collubio di forze per garantire il meglio e naturalmente non potevano mancare loro i vigili urbani il consigliere a premiare il corpo dei vigili urbani che davvero insieme alla protezione civile alla Croce Rossa ha coordinato tutto il percorso cittadino a ritirare c'è il nostro comandante quindi grazie davvero per il vostro lavoro il vostro impegno all'associazione Carabinieri per la loro collaborazione e il loro supporto al dottor Vito Marotta abbiamo detto più di una volta abbiamo sentito le parole del sindaco dell'assessore grazie naturalmente all'amministrazione comunale che è stata vicino all'evento al giornalista ed amico è davvero un grande piacere averlo qui Peppe Sacco per Bodismo in Campania grazie ok andiamo avanti con la premiazione della gara assoluta con i primi sei al traguardo Mondragone in corsa per Salvatore Romano che chiude in 34 e 46 per la sesta posizione assoluta quinta posizione assoluta lui è Giuseppe Olimpo Atletica Isaura Valle Dell'Irno per la quarta posizione assoluta il team Felix Running Francesco Feola 33 e 43 al terzo posto assoluto dopo un periodo di stop per infortuni lui che adesso rappresenta la potistica normanna è stato mio compagno di squadra all'International Security Service abbiamo girato in lungo e largo l'Italia con tantissime gare lui che ha vestito la maglietta nazionale del Marocco Abdel Kepir Lamaci che ha chiuso con il tempo di 33 e 26 l'assessore Terracciano a premiare il secondo atleta al traguardo che ha vinto anche il traguardo volante della potistica il laghetto lui è Aic Yousef con 33 e 21 domenica sabato scorso abbiamo corso a San Giovanni a Piro lui è arrivato secondo mi ha dato 8 secondi io sono arrivato terzo purtroppo a vincere la diciottesima edizione della maratonina città di San Nicola la strada il team l'International Secondary Service con il tempo di 33 e 19 Aziz Lacriti ritorno dal Marocco ed eccolo qui il podio ufficiale di questa diciottesima maratonina di San Nicola dalla nazionale del Marocco alla nazionale di San Nicola ce la siamo inventata adesso lui è Abdel Kepir Lamashi secondo gradino del podio per un set grande in forma Yousef Faik primo gradino del podio ed è il re di questa diciottenne lui è Akit Lacriti allora io vorrei chiamare qui lo sto guardando lui c'è il telefonino in mano a Nicola a Nicola c'è la Mella che ringrazio per il bell'articolo e per il fatto che hai citato che la voce di oggi eravamo tre di noi io devo dire io oggi lo devo dire che non è non è non sempre si scrive dice che la voce di una gara il nome è coi nomi delle persone ci hai citato tutto il tre questo ci fa enormemente piacere grazie sei sei una persona fondamentale lo so sei molto legata alla maratonina di San Nicola vai Nicola si io voglio dedicare sono 18 anni che seguo la maratonina dal primo giorno in cui è nata sul giornale Corriere di San Nicola vorrei dedicare questa targa e questo riconoscimento a una persona che non c'è più che è stata la voce della maratonina Marco Caspone grazie Pietro a omaggiare la categoria SN 75 grazie terzo non c'è lo richiamiamo il genio Gallina se ci sei ci raggiungi Luciano Napolitano a consegnare ricordo le pagine di Sana Corsa Luigi Esposito il nostro capitano a guidarci e chiudiamo con la categoria SM 60 vince la categoria SM 60 Vincenzo Celiento presidente dell'azione Liga Caivano non andate via perché dopo andiamo anche a premiare la terza squadra invece che si è classificata oggi è la Felix Running e anche ti facciamo venire i bambini Yoran la seconda squadra di oggi invece è la Polistica San Maritana il tifo proprio non ti avevo visto ma però se ne è arrivati i secondi eh eh ma chi l'avrebbe mai detto una gioia ogni tanto Emilio e invece la squadra numerosa che ha vinto oggi erano veramente circa 77 atleti che hanno partecipato oggi di road Runners Maddaloni 77 complimenti gennaio giro di piedi a foto stringetemi un poco stringetemi un poco gennaio stringetemi un poco gennaio gennaio martina gennaio martina foto ok passiamo subito all'ultima delle premiazioni previste quella per il campionato provinciale individuale FIDAL e partiamo proprio dalle categorie femminili chiameremo la prima di ogni categoria categoria SF70 Maria Di Lorenzo vieni Maria vieni che ti ti aspettiamo io farei anche visto che ce le abbiamo tutte qui farei una foto con tutte le partecipanti quindi le chiamo subito categoria SF60 Antonella Tappa categoria SF55 Maria Esposito Roadrunners Maddaloni categoria SF50 Atletica Magasford Anna Maria Di Blasio categoria SF45 Felix Running Rosa Guardascione SF40 Roadrunners Maddaloni Lara Matrone SF35 Modragone in corsa Vincenza Cioppa categoria SF Bodistica San Maritano Raffaella Riccardi e l'ultima categoria Juniores Atletica Marcianise Alessia Rispoli Curva via ad applaudirti ed eccole qui le nostre campionesse campionato provinciale individuale femminile lascio a Gennaro la parte maschile Passiamo velocissimamente al campionato provinciale individuale maschile categoria 80 Antonio Dorologio categoria 75 Giuseppe Castaldo categoria 70 Pasquale Raucci categoria 65 Amato Martucci categoria 60 Claudio Giannelli 55 Antonio Pascarella categoria 50 Gabriele Cioffi Atletica San Nicola per la categoria 45 Luciano Napoletano o almeno diciamo 100 categoria 40 Delkebir Lamaci categoria 35 Vincenzo Migliaccio categoria Assoluta SM Francesco Feola Felix Running categoria Promesse Petri Marius Petro Sanu Bodistica Marcianese Juniores Francesco Tascione e allievi Francesco Colella e approfittiamo di questa premiazione per omaggiare il presidente provinciale Angelo Garofalo con una targa ricordo grazie direi che abbiamo concluso qui le premiazioni Pietro non c'è più nessuno chiamerei quindi tutti i componenti che sono lì venite qui per una foto finale dai lo scatto finale e fatemi un applauso perché ve lo siete meritato tutti io mi metto dietro a te così non mi fotografi siamo sicuri tutti i componenti dell'Armetica San Nicola grazie a tutti